Piontek Piontek ancora Piontek ci prova E va a segnare un gol Strepitoso Questo è un fuoriclasse Piontek Piontek Pen dziamare Léa A P I P I Buonucci, la pressione di Baccaio con che era una palla, serve Biontek, destro, Christof Biontek, avanti il Milan al 39esimo La palla arriva, Biontek, non sbaglia, sin qui non si era visto, ma non sbaglia mai sotto porta il polacco che segna ancora per la quinta partita e l'onsecutivo in rosso-nero La palla arriva, Biontek, non sbaglia mai, sin qui non si era visto, ma non sbaglia mai sotto camera e l'onsecutivo in rosso-nero 15 secondi per tentare l'attacco Balla dentro 1-1 Un gol pazzesco A lovely ball in And Teontek makes his mark for Milan in Serie A Da dentro 3-1 Sempre Biontek Doppietta per lui Doppietta per lui